puoi scegliere determinati alimenti per prevenire il gonfiore evitare l'infiammazione e ottenere una pelle luminosa ma che ne dici di aumentare la potenza del tuo cervello ciao a tutti e bentornati a uno stile di vita sano ultimamente la relazione tra dieta e salute del cervello sta ricevendo molta attenzione i ricercatori in precedenza credevano che quando si invecchia le cellule cerebrali muoiono ma nuovi studi dimostrano che le cellule cerebrali possono rigenerarsi e molto dipende da come mangi e da come ti mantieni in forma una dieta ricca di cibi pieni di nutrienti può essere un punto di svolta per il tuo cervello può migliorare le tue capacità decisionali di risoluzione dei problemi può affinare la tua concentrazione e potenziare la tua memoria può anche prevenire malattie cerebrali legate alla vecchiaia come l'alzheimer e la demenza nel video di oggi ti diremo quali sono i cibi migliori che manterranno giovane il tuo cervello dalle barbabietole all'olive dai frutti di bosco all'olio di cocco dalle noci ad altro ancora guarda fino alla fine per conoscerli tutti 1 uova le uova sono ricche di vitamina e e acidi grassi omega 3 entrambi i quali aiutano a proteggere il cervello queste piccole centrali energetiche sono una buona fonte di vitamine del gruppo b e colina che aiutano con la memoria e l'apprendimento le uova contengono anche selenio un minerale necessario per la buona salute del cervello oltre a proteine vitamina a e ferro come preferisci mangiare le uova dicelo velocemente in basso nella sezione commenti 2 menta la menta è una buona fonte di vitamina a che può aiutare a migliorare le capacità di apprendimento e aumentare la plasticità del cervello contiene anche vitamina c che si dice protegga dal declino cognitivo gli studi hanno dimostrato che il profumo della menta influisce sul funzionamento del cervello in uno studio l'aroma della menta ha contribuito ad aumentare la reattività e la memoria in un altro ha aiutato i soggetti del test a ottenere risultati migliori nelle abilità di segreteria di base come la dattilografia e la memorizzazione è stato dimostrato che solo il profumo di menta accresce la vigilanza 3 cavolfiore alcuni cibi sembrano semplicemente ottimi per la mente prendi il cavolfiore un po come le noci ci ricorda visivamente il cervello è abbastanza sicuro il cavolfiore è una superstar che stimola il cervello è un'ottima fonte di vitamina k che si dice mantenga la mente acuta con l'età e aumenti la memoria così come i folati aiuta anche nella disintossicazione del fegato e un fegato felice che è l'aspirapolvere del corpo per le tossine rende il cervello felice 4 barbabietole le barbabietole sono cibo di primordine per la mente sono ricche di nitriti che hanno dimostrato di aumentare il flusso sanguigno in parti del cervello legate al funzionamento generale sono anche ricche di vitamina b9 che può aiutare il funzionamento cognitivo e ritardare la demenza contengono carotenoidi che possono aiutare a potenziare il funzionamento del cervello e allontanare la depressione 5 mirtilli i mirtilli sono una parte essenziale di qualsiasi lista di supercivi i loro benefici per il potenziamento del cervello sono stati scientificamente provati completamente ricchi di antiossidanti i mirtilli migliorano la memoria delle persone anziane e aiutano a mantenere attiva la loro funzione cognitiva oltre che nello sforzo consapevole per l'attività cerebrale i mirtilli possono prevenire anche l'alzheimer 6 broccoli ricchi di vitamina k i broccoli sono noti per aumentare la potenza del cervello e migliorare la funzione cognitiva i ricercatori hanno scoperto che il sulforafano una sostanza chimica presente nei broccoli può aiutare a mantenere il cervello acuto e combattere il deterioramento delle cellule cerebrali che causano l'alzheimer contengono anche un composto chiamato luteina che aiuta a preservare l'intelligenza proteggendo i neuroni nel cervello l'intelligenza può essere classificata in due tipi fluida e cristallizzata l'intelligenza fluida è la tua capacità di risolvere nuovi problemi senza alcuna conoscenza preliminare l'intelligenza cristallizzata e invece è la tua capacità di risolvere i problemi derivante dagli anni di esperienza 7 carote uno studio ha scoperto che gli uomini che avevano assunto 50 mg di beta carotene antiossidante a giorni alterni per 15 anni hanno ritardato l'invecchiamento cognitivo hanno ottenuto risultati significativamente migliori rispetto al gruppo placebo nella cognizione e nella memoria verbale non è quindi come un interruttore per il cervello cinque porzioni di carote a settimana possono ridurre il rischio di ictus del 68 per cento oltre al beta carotene le carote contengono alti livelli di un composto chiamato luteolina che può anche ridurre i deficit di memoria legati all'età e infiammazione nel cervello 8 olive mangiare le olive regolarmente può portare nel tempo a un minor deterioramento del cervello ciò è dovuto al grasso monoinsaturo contenuto nelle olive questi grassi sani sono incorporati nelle cellule e possono aumentare l'apporto di ossigeno al cervello assicurati di controllare l'assunzione di grassi saturi da carne latticini e cibi fritti che possono invece irrigidire le membrane cellulari usa le olive come spuntino come contorno a pranzo o come antipasto prima di cena 9 salmone il salmone e altri pesci grassi tra cui trota sgombro tonno bianco a ringhe e sardine forniscono grandi quantità di acidi grassi omega 3 per le funzioni del cervello questi grassi sani sembrano ridurre l'infiammazione in tutto il corpo compreso il cervello gli scienziati pensavano che questi benefici sulla salute cardiovascolare fossero un sottoprodotto degli omega 3 ma ora credono che questi potenti antiossidanti lavorino direttamente sul cervello i due tipi di omega 3 presenti nel salmone epa e di h aiutano il cervello a tutte le età anche quelli ancora in utero 10 uva numerosi studi sostengono l'effetto benefico dell'uva sulla funzione cerebrale facilita il flusso sanguigno e aiuta a mantenere la pressione sanguigna corretta ea ridurre lo stress ossidativo l'uva è deliziosa insieme allo yogurt in insalate e antipasti invece di usare la marmellata d'uva sul tuo prossimo panino prova l'uva fresca 11 frutti di bosco i frutti di bosco migliorano la funzione cognitiva e rallentano significativamente l'invecchiamento cerebrale sono neuroprotettori perché sono ricchi di antiossidanti sono come una palla da demolizione per i radicali liberi che fluttuano intorno al cervello causando danni i mirtilli in particolare hanno dimostrato di migliorare la memoria contengono antociani composti molto studiati per via dei loro benefici cognitivi 12 alimenti fermentati il tuo cervello e il tuo intestino sono intimamente collegati la serotonina l'ormone della felicità è in realtà prodotta dai batteri nell'intestino se il microbioma intestinale viene sbilanciato da un'infiammazione o da una cattiva alimentazione questo ha un impatto diretto sui neurotrasmettitori prodotti dal cervello ciò può contribuire allo sviluppo dell'alzheimer della demenza e di altre patologie cognitive un numero crescente di ricerche sta dimostrando che gli alimenti fermentati migliorano la funzione cerebrale a causa del loro impatto sulla produzione di neurotrasmettitori gli alimenti fermentati o probiotici sono kombucha yogurt kefir kimchi e krauti gli alimenti ricchi di fibre possono anche aiutare ad avere un intestino sano e questo include verdure frutta legumi e cereali integrali 13 tè verde il tè verde a due componenti che potrebbero aiutare ad aumentare la potenza del cervello oltre alla teina contiene un composto chiamato lte anina che può aiutare nella gestione dello stress e migliorare le prestazioni del cervello ancor meglio i suoi effetti possono essere avvertiti in appena 30 minuti puoi anche prendere il tè matcha contiene circa il doppio di lte anina rispetto al normale tè verde ed è più ricco di caffeina 14 frutta secca come in altre malattie l'infiammazione svolge un ruolo chiave nell'alzheimer e in altri disturbi cerebrali la frutta secca contiene diversi composti tra cui polifenoli e acidi grassi polinsaturi che aiutano a combattere le infiammazioni e forniscono benefici antiossidanti numerosi studi hanno dimostrato i benefici per la salute del cervello derivanti dall'aggiunta della frutta secca in una dieta sana è un ottimo spuntino da sola in mix variegati e altri snack 15 olio extravergine di oliva caposaldo della dieta mediterranea l'olio di oliva contiene fenoli sono un tipo di antiossidante che aiuta a mantenere il cervello sano riducendo l'infiammazione oltre a proteggere dal morbo di alzheimer l'olio d'oliva ha dimostrato di essere di aiuto con altre malattie neurodegenerative tra cui il parkinson e la sla può essere utilizzato in tanti modi dal condimento per l'insalata al soffritto puoi anche usarlo nei prodotti da forno 16 cioccolato fondente ottime notizie per gli amanti del cioccolato fondente la ricerca suggerisce che ha poteri di stimolazione del cervello tra cui una migliore funzione cognitiva un ridotto rischio di demenza e migliorate prestazioni sulle attività di memoria il cioccolato fondente contiene anche un composto chiamato epicatechina che ha benefici cognitivi specialmente nei compiti che coinvolgono la memoria la funzione esecutiva e la velocità di elaborazione negli anziani oltre ad aumentare la potenza del cervello il cioccolato fondente presenta anche molti benefici per la salute 17 sedano il sedano è una delle fonti più ricche di luteolina un composto vegetale che si ritiene a bassi i tassi di perdita di memoria legata all'età la luteolina calma l'infiammazione nel cervello che i medici ritengono essere la causa principale della neurodegenerazione 18 brodo di ossa in poche parole il brodo di ossa è un brodo fatto in casa a base di ossa di animali come tacchino o manzo quando bevi brodo di ossa questo nutre il tuo corpo con il collagene l'elemento costitutivo delle cellule delle ossa dei legamenti e del cervello uno studio ha scoperto che le persone con disturbi autoimmuni hanno avuto un sollievo dai sintomi bevendo il brodo di ossa in effetti alcuni hanno raggiunto persino la remissione completa è stato anche dimostrato che la glicina presente in questo brodo aiuta a migliorare sia il sonno che la memoria 19 olio di cocco i nostri corpi sono macchine bene oliate con il nostro cervello composto per il 60 per cento da grassi bassi livelli di grassi negli alimenti possono contribuire alla depressione all'alzheimer e alla demenza incorporare nella dieta grassi sani o anche quantità moderate di grassi saturi come l'olio di cocco può aiutare ad aumentare i livelli di colesterolo buono perdere peso e combattere la demenza agisce come anti infiammatorio ed è stato collegato alla prevenzione dell'insorgenza di questi disturbi cerebrali 20 semi di chia questi semi racchiudono un grande potere in un minuscolo contenitore sono ricchi di proteine e ricchi di acidi grassi omega 3 contenenti grassi sani per ungere il corpo e la mente aiutano a controllare i livelli di zucchero nel sangue idratano il corpo e contengono una buona fonte di antiossidanti sono anche una delle migliori fonti di fibre al mondo 21 cereali integrali come ogni altra cosa nel tuo corpo il cervello non può funzionare senza energia la capacità di concentrarsi e focalizzare proviene da un apporto costante di energia nel sangue al cervello raggiungi questo obiettivo scegliendo cereali integrali a basso indice glicemico ciò significa che rilasciano lentamente la loro energia nel flusso sanguigno mantenendoti mentalmente vigile per tutto il giorno mangiare troppo pochi carboidrati sani come i cereali integrali può portare all'annebbiamento del cervello e all'irritabilità scegli cereali integrali marroni pane integrale riso e pasta se mangiare questi cibi può prevenire l'alzheimer e la demenza ce ne sono alcuni che dovresti evitare e delle bevande che dovresti invece bere per aumentare la potenza del cervello